A volte io ho paura che tu sia solo la mia immagine Lo spettacolo di Samuele Berzani Cinema Samuele Tour 2022 arriva all'estate in fortezza ad Arezzo. È stato il live dell'omonimo disco che ha dato all'artista la sua quinta Targa Tenko come miglior album in assoluto dell'anno. E numerosi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica segnando un nuovo percorso sonoro. Sul palco una band molto affiatata di sette musicisti d'eccezione e poi i video di Bruno Delia creati appositamente per lo spettacolo. È stato il racconto e note di 30 anni di carriera ma anche e soprattutto di quelle delle sale del suo ultimo album da ascoltare e guardare come un film. Da Arachiri a Chico e Spillo al tuo ricordo Spaccacuore Berzani ha alternato le sue ultime canzoni ai suoi brani più amati ed il pubblico aretino ha molto apprezzato. Un altro centro dell'estate in fortezza. Se correggerò gli effetti, i miei guasti nucleari Se troverò il coraggio, ti telefono domani E più sarò lontano e più sarò da te E più sarò da te Buocchio è tutto il coraggio, ti telefono bloccare